Nuova edizione del TG2000, sono le 20.30 in punto, ben trovati a tutti voi. In apertura, appena al mondo è già rifiutato, un neonato è stato partorito e subito dopo abbandonato in strada. L'ha trovato uno spazzino, alcune donne l'hanno subito cullato, ma il piccolo non ce l'ha fatta. E' accaduto a Settimo Torinese. La cronica di quanto è accaduto è poi l'appello dei centri di aiuto alla vita. Parti anonime e quelle protette, questi bambini, possono essere salvati. E l'alba a Settimo Torinese. Due spazzini al lavoro si imbattono in quello che non avrebbero mai voluto trovare, un neonato. Io l'ho soccorso il bambino, glielo ho volto in mezzo a una tovaglia, perché quello non potevo farlo. Non sono un dottore. Poi sono scese giù tutte le donne, le mamme, lo coccolavano, però... Però non ce l'ha fatta il neonato abbandonato questa mattina all'alba per strada. I due operatori ecologici, insieme a un ragazzo, hanno soccorso il bimbo e lo hanno fidato un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Era già in arresto cardiaco ed è morto dopo circa mezz'ora. Di lui si sa solo che era un maschietto di carnagione chiara, avvolto in un piccolo asciugamano e probabilmente appena partorito. Secondo alcuni testimoni, il piccolo aveva una ferita alla testa, circostanza confermata dai carabinieri che però non sanno spiegarne l'origine. Al momento non confermata l'ipotesi che il bimbo sia stato lanciato da un'auto. Non abbiamo sentito niente né prima, siamo rimasti scioccati tutti e basta. Una cosa così poi specialmente in questo periodo che tutte le sere c'è qua il rosario davanti a questa madonna, proprio in questa zona qua. I carabinieri di Settimo cercano ora la mamma e procedono per il reato di omicidio volontario. Stanno verificando negli ospedali vicini eventuali ricoveri di donne che abbiano appena partorito e stanno effettuando l'esame delle telecamere di videosorveglianza della zona. Questo arriverà anche al dramma che c'è dietro questa ragazza evidentemente, si era lasciato così. Così esposto e a rischi così grandi può avere un'alternativa. Le donne lo devono sapere. Ci sono tanti centri di aiuto alla vita in Italia, ce ne sono anche diversi a Roma e operiamo proprio per accogliere le donne, per aiutarle a superare tutta una serie di difficoltà che gli fanno dire no alla vita e che le fanno sentire veramente sole e disperate. Ci sono altre possibilità ancora, ci sono possibilità negli ospedali dove si può partorire in anonimato e lasciare il proprio bambino poi affidato ai servizi sociali e ci sono anche le culle per la vita. Le culle per la vita sono un rifacimento di quello che era la vecchia ruota dove si lasciavano i bambini ai conventi. Ce ne sono il 45 in Italia, a Roma c'è nell'ospedale Casilino. Si può lasciare il proprio bambino, non si è riconosciuti ma il bambino ha subito le prime cure e sta in un ambiente protetto. Ecco, noi vorremmo che queste cose si sapessero e che si diffondessero. E c'è anche questo servizio così importante SOS Vita che può essere raggiunto da tutti sul web con il telefono e questo servizio che è attivo 24 ore su 24 troverà poi la soluzione, il CAV più vicino, più adatto per le donne. Ilva di Taranto cambia proprietà e sui lavoratori si addensa alla nuve dei licenziamenti. Entrambe le cordate in elizia per aggiudicarsi l'acciaieria annunciano piani che prevedono tra i 5.000 e i 6.000 esuberi. Per i sindacati sono condizioni inaccettabili. L'incontro oggi al Ministero per lo Sviluppo Economico giovedì, nuovo vertice. Barbara Masulli. Si riponevano molte speranze in questo incontro concluso poco fa al Ministero dello Sviluppo Economico fra governo e sindacati sul futuro dell'Ilva. L'auspicio è che nessuno perdesse il posto di lavoro mentre le previsioni parlavano di 3.000 esuberi. La realtà purtroppo è anche peggiore. In entrambe le offerte presentate per l'acquisto dell'acciaieria si calcolano fra i 5.000 e i 6.000 esuberi. La prima cordata in gara per l'Ilva, la Arcelor Mittal Marcegaglia, quella cioè preferita dai commissari, prevede un taglio di 5.800 posti di lavoro entro il 2023, l'anno in cui dovrà essere completato il piano ambientale. L'altra cordata, Cia Italia, calcola invece esuberi fino a 6.400 entro il 2018, proposte inaccettabili per i sindacati. Quella che emerge è che sia nella proposta che da parte dei commissari viene valutata migliore che l'altra c'è una riduzione occupazionale inaccettabile. È un punto di partenza sbagliato, noi pensiamo che si debba partire con chiarezza su investimenti ambientali, investimenti produttivi, anche sul prezzo, ma il prezzo salato in termini di occupazione è assolutamente troppo salato. Sarebbero poche dunque le differenze fra le due proposte, entrambe da rispingere. Nelle prossime ore è prevista in mobilitazione a Taranto e Genova, mentre il tavolo è stato riaggiornato a giovedì. Un conto pesante per i lavoratori, presentato a pochi giorni dalla visita a Genova di Papa Francesco. Lavoro per tutti, non reddito per tutti, aveva detto Bergoglio. Il governo pone la fiducia sulla manovra e blinda così il provvedimento che verrà discusso domani pomeriggio alla Camera. Un attesto che, come noto, include anche la nuova configurazione dei vecchi voucher, i buoni, per pagare il lavoro accessorio. Su questo tema è arrivato il no del movimento democratico e progressista, i fuoriusciti dal PD. Tanto che il nuovo strumento è stato approvato in commissione con l'appoggio di Lega e Forza Italia che non fanno parte della maggioranza. I numeri del governo alla Camera sono tutto sommato agevoli, ma la situazione a Palazzo Madama rischia di essere diversa e il no minacciato da MDP rischia di mettere in serie a difficoltà Palazzo Chici. E intanto non si schieriscono invece le ombre su possibili elezioni anticipate, ma resta da sciogliere il nodo della legge elettorale. Le forze politiche convergono sul modello che si ispira a quello tedesco. Come ci spiega Augusto Cantel. Si va avanti con il sistema tedesco, con lo sbarramento al 5%. In direzione il segretario del PD Renzi mette i paletti sul percorso della legge elettorale, conferma l'asse con Forza Italia in cassa. Il sì del Movimento 5 Stelle punta all'approvazione del Tedeskum in Parlamento entro il 7 luglio. Perché quando sento qualcuno dire, beh se si va alle elezioni però è un pericolo. Ragazzi questa si chiama democrazia. Succede ogni tanto di andare alle elezioni. Talvolta si vincono e talvolta si perdono. Si va dunque verso il voto anticipato e Renzi non lo nasconde davanti al Premier Gentiloni, presente in direzione che in giornata aveva comunque garantito un esecutivo nella pienezza delle funzioni. Il governo era e sarebbe stato nella pienezza dei suoi poteri avendo la fiducia del Parlamento. Eppure il voto anticipato preoccupa anche all'interno del PD con 31 parlamentari che si schierano contro le elezioni in autunno, mentre per il ministro dell'economia Padoan è difficile fare riforme in scadenza elettorale. Si parte dunque dall'intesa di massima tra PD, Forza Italia e 5 Stelle sul modello tedesco. Il tedesco, una sorta di sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, soglia dunque piuttosto alta che penalizzerebbe i partiti minori che invece puntano ad una sticella più bassa al 3%. Da qui si è consumato il primo scontro all'interno della maggioranza di governo tra Renzi e Dalfano. Al momento le posizioni sembrano distanti con Berlusconi che vorrebbe una soglia anche all'8% e apre a Salvini. C'è il voto destra che ci sarà sulla scheda elettorale. Con Salvini? Certo. Una partita complicata dunque che si intreccia con la data del voto. Scartata l'ipotesi avanzata da Grillo del 10 settembre, restano due date possibili. Il 24 settembre e il 22 ottobre. Manchester non si arrende alla paura. Domenica prossima, due settimane dall'attentato che ha costato la vita a 22 persone al termine del concerto di Ariana Grande, la cantante statunitense torna sul palco della città inglese, città ferita ma che non vuole piegare la testa di fronte al terrorismo. Silvio Vitelli. Quel concerto non poteva finire così, tra il sangue e le lacrime, per le vittime dell'attentato. Tornerò nella coraggiosissima città di Manchester, aveva scritto Ariana Grande, tornerò per passare del tempo con i miei fan e per un concerto di beneficenza. Ed ecco la data, domenica prossima, 4 giugno, giorno nel quale la musica trionferà nuovamente sulla paura. Biglietti gratis per i sopravvissuti al concerto dello scorso 22 maggio, mentre il ricavato degli altri sarà devoluto al fondo d'emergenza We Love Manchester. Anche Justin Bieber, altro idolo dei teenager, salirà su quel palco, insieme a Miley Cyrus, One Direction, Kate Perry. 65.000 posti a disposizione a dare il loro sostegno, ci saranno anche i Coldplay. Non potranno mancare, infine, i Take That, storica band proprio di Manchester. Programmato invece per questa sera, il concerto di un'altra grande star di Manchester, Noel Gallagher, di certo canterà la sua Don't Look Back in Anger. Non guardare al passato con rabbia, recita il titolo di questo brano, divenuto il canto di rinascita della città ferita dalla strage. Torniamo in Italia. Una firma sulla dichiarazione dei redditi che nasconde una scelta consapevole e condivisa da 16.200.000 italiani. Con il meccanismo della donazione del 5x1000, ecco le realtà benefiche di ricerca che nel 2016 hanno più beneficiato del contributo volontario degli italiani. Luciano Pescaglia. 16.200.000, tanti sono gli italiani che hanno scelto di firmare per destinare il 5x1000 dell'IRPEF a enti pubblici o privati di solidarietà sociale. I dati, riferiti al 2015, raccontano un paese che, nonostante la crisi, mostra intatta la sua tradizionale capacità di riconoscere e sostenere chi lavora per il bene di tutti e soprattutto di coloro che maggiormente hanno bisogno di aiuto. Sono circa 47.000 le realtà del terzo settore che hanno beneficiato del 5x1000, ma si devono aggiungere anche più di 8.000 comuni, con un aumento complessivo del 13% rispetto al 2013. Dei più di 16 milioni che hanno firmato, ben 13.800.000 hanno anche indicato una specifica organizzazione, mentre quasi 2.500.000 hanno solo scelto una categoria a cui destinare il proprio 5x1000. In testa alla speciale classifica dei beneficiari si conferma l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, con quasi 65 milioni di euro, a seguire Emergency, con 13 milioni e mezzo circa, e Medici Senza Frontiere, con poco più di 10 milioni. Sono 39 gli enti che hanno percepito oltre un milione di euro, quasi 21.500, quelli che hanno incassato meno di 1.000 euro. Agli oltre 8.000 comuni sono stati distribuiti più di 15 milioni di euro, mentre alle associazioni sportive, che sono più di 7.000, quasi 11 milioni e mezzo. Un ultimo significativo dato sulle scelte generiche. Quasi un milione di firme su 2 milioni e mezzo circa sono andate a favore della ricerca sanitaria. Ed ora in Vaticano. Tutti noi pastori dobbiamo congedarci. Pastori che non si appropriano del greggio e che non si ritengono il centro della storia. È l'omelia di Papa Francesco nella Messa Matotina a Casa Santa Marta. Paolo Fucini. Nessun pastore è il centro della storia, neppure il Papa, tantomeno un vescovo o un parroco. Non è solo una professione di umiltà, quella di Francesco oggi a Santa Marta, pronunciata celebrando la Messa del Mattino. La prima lettura dagli Atti degli Apostoli parla di Paolo, che saluta per l'ultima volta la Chiesa di Efeso. La potremmo intitolare congedo di un vescovo, commenta Bergoglio. Arriva un momento dove il Signore ci dice vai di un'altra parte, vai di là, vai di qua, viene da me. Quando un pastore non sa congedarsi dal greggio, allora c'è qualche legame non buono, avverte Francesco. Invece San Paolo. Lo dice anche un detto popolare, come si vive si muore, come si vive ci si congeda, cita il Papa in conclusione additando San Paolo, ad esempio, anche a se stesso, con una preghiera. Per i parroci, per i vescovi, per il Papa, perché la loro vita sia una vita senza compromessi, una vita in camino e una vita dove loro non si credano che sono al centro della storia. E così imparino a congedarsi. Spunti, servizi e riflessioni nel programma che metta a confronto i TG nazionali, TGTG per l'appunto, il studio Clara Iatosti. Clara, ben trovata, tutto pronto per una nuova puntata tra pochissimo. Fabio, buonasera, buonasera ai nostri amici. Tra poco, come sempre, tutti i titoli dei TG nazionali che commenteremo con Giuseppe Alberto Falci, un collega parlamentarista. Parleremo della nuova legge elettorale, ascolteremo il giudizio di Stefano Folli, editorialista di Repubblica, di date e di voto. Ma andremo anche all'estero e vi porteremo in visita ad un museo molto particolare. Poi a Copenaghen per una partita di calcio dal finale sicuramente inatteso. Tanto di più vi aspettiamo tra poco. Grazie Clara Iatosti, per noi del TG2000 è tutto, grazie per averci seguito e adesso buona visione di TGTG, che seguiamo con voi. Arrivederci.